hai un soprannome mi chiamavano ciccio fino a vent'anni il tuo supereroe mio padre sogno nel cassetto vivere fino a 110 anni sicuramente va bene è uno dei sogni che ho churchill o kissinger definitivamente churchill potere soldi e fama me li metti in ordine di importanza soldi penso è il più importante e la fama va dietro i soldi molto spesso nati con la camicia un podcast prodotto da dottor podcast e condotto da elisabetta della croce dell'unicef italia e da massimo volpe il nostro ospite nasce a verona per caso ma è veneziano sino al midollo la sua storia imprenditoriale che non ha ancora terminato inizia a 17 anni quando il padre boccia senza appello il suo desiderio di fare la carriera di corridore automobilistico la sua forza non essersi mai scoraggiato neanche in quegli anni più bui in cui sarebbe stato facile desistere seconda generazione dell'impresa familiare oggi condivide visione strategie con il figlio e nipoti non ha un motto ma un tatuaggio che rappresenta il business di famiglia e di cui ci racconterà fra poco oggi nell'ultima puntata di nati con la camicia diamo il benvenuto ad un ospite davvero speciale arrigo cipriani grazie benvenuto arrigo allora la prima domanda è la tua data di nascita 32 1932 diciamo l'anno l'anno se vuoi di qualche mese aprile ma senza niente la data lasciamo agli ascoltatori fare i conti questa è una vera next generation speciale sì e la domanda che segue è arrigo inizia a raccontarci la tua storia e la storia della tua famiglia che poi la storia della famiglia è abbastanza semplice era una famiglia poverissima quella di mio padre e tanto è vero che nel 1900 mio nonno decide di andare in Germania con i cinque figli che poi più piccolo neanche un anno senza conoscere una parola di tedesco io me l'immagino salire su una tradotta alle sei del mattino perché sei del mattino molto più molto più storia e andare in Germania senza senza sapere tedesco e io ho immaginato che lui avesse spiegato ai primi tedeschi che era molto bravo nel legno anche perché mi hanno detto che faceva degli stuzzicadenti che poi mettevano il cappello e cercava di vendere l'uscita ai ristoranti a Verona così sì per cui quando all'università mi ha chiesto cosa faceva il nonno ha detto industriale del legno e mi diceva era vero niente e niente arrivano arrivano in Germania del legno li fanno fare subito l'operaio che non aveva niente a che fare col legno e lì rimangono fino allo scoppio della prima guerra mondiale tornano a Verona perché venivano da Verona mio padre subito aveva 15 anni si mette a fare garzoni di pasticcere due anni dopo il proprietario parte per la guerra e lui diventa direttore del locale il mio mito è lui che è lui che ha inventato tutto è lui che ha dato l'impronta tutto quanto dopodiché finisce chiude la pasticceria alla fine della guerra e si mette a fare cameriere non rimaneva mai più di sei mesi in un posto quando pensava di aver imparato tutto andava via andava in un altro posto perché è tutto il contrario del posto fisso che faceva e poi dopo comincia a fare barman nel 1928 faceva il barman all'hotel Europa di Venezia tra i suoi clienti c'era un trio diciamo così c'era una vecchia zia che aveva l'amante e il nipote erano i migliori clienti del bar zia e amante litigano con il nipote partono senza pagare il conto e lasciano il nipote senza soldi mio padre se ne accorge gli chiede se poteva fare qualcosa e l'altro dice veramente sì e gli dà 10.000 lire per due anni non lo vede non sa più niente del lui quando ritorna oltre i 10.000 gli dà anche 30.000 per aprire un bar a Venezia e il suo nome era Harry Pickering da Boston e così pensano che Harry Harry's Bar sia un bel nome per il locale così comincia lui poi lo apre sceglie una calle di Venezia dove fallivano tutti i negozi perché non aveva il ponte che la collegava a piazza San Marco e però lui dice lo voglio lì perché voglio che i miei clienti vengano dentro perché scegliono di venire dentro non perché ci passano davanti da lì poi c'è stato in quegli anni c'era la grande crisi americana perché forse era il momento peggiore per il primo bar però invece tutta l'aristocrazia europea veniva a Venezia a passare le vacanze e c'è stato un giorno che aveva quattro re seduti a tavoli diversi quattro re veri e naturalmente questo aiuta molto la conoscenza del locale fino a che un giorno aveva un cliente molto balbuziente non riusciva quasi a parlare lui al banco faceva il barman e questo cliente riesce a dire che stava per partire e non sapeva dove era la stazione di Venezia e mio padre stava finendo di lavorare e dice guardi l'accompagno io dopo dieci giorni dell'email viene fuori con un titolo enorme di essere il più bel barman il più bel locale d'Italia ecco e questo è stato l'inizio della stampa quindi la gentilezza di suo padre ha premiato in più di un'occasione sì sì ma lui era un uomo semplicissimo non si dava aria non si dava niente una volta siamo andati dietro le sei mi ricordo assieme e vedo che corre verso un tavolo è seguito dai guardi del corpo del re di Grecia in cui si alza e lo braccia però non aveva non prendeva mai confidenza con nessuno dicevano dare mai del tuo ai clienti perché viene il giorno che non hanno i soldi e non vengono più Arrigo e così è nato tutto tu hai sempre saputo che avresti fatto parte del business di famiglia? no non credo ho fatto la maturità classica poi io volevo fare il corrido all'automobilista ho sempre avuto questa passione di velocità non se ne parlava neanche a casa evidentemente così allora ho detto no scriviti a legge perché legge ti apre la mente poi conosci il mondo così mi iscrivo a Padova e faccio alle due pomeriggio l'esame più difficile perché con molta prosopopea avevo scelto quello più difficile istituzione di diritto privato prendo 19 telefono quanto hai preso 19 meglio che vieni alla cassa non sarei mai un grande avvocato e da quel momento è iniziata la mia carriera devo dire che i primi anni ho capito un po' vedevo mio padre che lavorava in una maniera straordinaria era un uomo faceva il barman tutto il contrario di quello che fanno adesso dove fanno volare le bottiglie era tutto tranquillo però serviva i clienti in maniera straordinaria poi ho avuto la fortuna che lui qui nel 58 vuole aprire l'hotel Cipriani segue la costruzione dell'hotel Cipriani e scompare dall'est bar salvo veniva una volta in 15 giorni per accontentarci oppure farci piangere e trovava tutto sbagliato e io sono stato solo ecco e lì mi sono fatto io credo che quello che mi ha aiutato è stato essere solo in quel locale che già funzionava ma che però ho cominciato a capire perché e quindi se uno dovesse pensare all'Arrigo Ragazzo qual è il valore aggiunto che ha portato l'entrata nel business di Arrigo? Il valore aggiunto io credo che sia quello perché ci ho pensato anche molto ma spero che è la mia cosa a cui penso di più nel 1945 il 25 aprile ho visto entrare a Venezia le truppe di liberazione e noi avevamo avuto un momento terribile perché era stato sequestrato dalle truppe repubblichine nel bar per due anni per cui eravamo a casa andavamo in barca sotto i mitragliamenti eccetera e quella volta quando ho visto entrare le truppe di liberazione ho sentito un colpo dentro di me una cosa che esplosa veramente e in quel momento ho capito che la cosa più importante è la libertà così ho sempre pensato a non imporre niente ai clienti i clienti devono essere liberi liberi in tutti i sensi dalle posate piccole perché sono equilibrate in mano dalle tovaglie possibilmente di lino perché lino toccandolo e anche pulendosi la bocca con il collino il ricambio dell'aria le luci l'altezza delle sedie quello ci aveva già pensato mio padre e l'altezza del tavolo non so quante volte tu sarai andata in qualche ristorante trovi il tavolo alto così devi mangiare così e non lo digerisci perché se devi essere comodo per cui comodità mancanza in posizione tutto là è anche la semplicità anche nel servizio nel prendere comando eccetera e quello che dico sempre ai camerieri quando arrivano cercate di essere voi stessi abbiamo abbiamo sto paese straordinario che ha la storia forse la storia io dico non è la storia più lunga del mondo ma è una storia lunghissima di letteratura di architettura che poi lì davanti a noi anche non studiando entra dentro questa roba qua e quello che vuole il cliente anche lo straniero vuole trovare questo non i robot che dicono sempre le stesse cose siete mai dati avete mai telefonato un albergo di lusso adesso sono dicono il nome dell'albergo dice sono luigi e cosa posso fare per lei che è un robot noi diciamo Harrisbar perché quello che fa il numero tanto è contento di aver fatto il numero giusto e a quel punto si dichiara e allora buongiorno come stai lì e lì la relazione fra gli uomini Rigo allora iniziamo a svelare qualche segreto possiamo dire che la cura del dettaglio è uno dei segreti del successo sì certo certo è molto importante sì perché se il dettaglio è sbagliato si si accorge subito ci sono poi dei dettagli che sono che si vivono continuamente ecco gli odori i rumori la musica io non posso sopportare la musica del ristorante nel ristorante il cliente va a mangiare deve parlare la tavola è un luogo di aggregazione per tante persone letto per due qualche volta per tre ma insomma per due persone e questa è la grande cosa della tavola ed è anche dna della famiglia perché poi l'avete trasmesso a questa cura del dettaglio sì assolutamente tutti tutti lo sanno a memoria ecco è una cosa che è dentro nella testa ma a proposito invece di segreti hai accennato a un tatuaggio ah sì il nostro simbolo solo tatuato qua sulla spalla è un omino è un barman con tre bicchierini sotto che è stato disegnato da un nostro cliente ancora nel 1931 cioè proprio i primi giorni del bar e che è sempre rimasto il nostro simbolo poi mio figlio proprio l'ha voluto l'ha voluto mettere sempre dentro e sei l'unico che ce l'ha tatuato? no 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 ce l'ha tatuato lui, mia nipote scusa Elisabetta qui dobbiamo raccontare di nuovo la bio diciamo Arrigo Cipriani con un tatuaggio nel business di famiglia e quindi destino, destinato ah beh su questo non c'è dubbio destino io per esempio non penso mai alla morte perché non me ne frega niente la mia età quello che si è fatto si è fatto ma io dico la morte è dietro di noi non è davanti a noi ed è tutto quello che avremmo potuto fare non l'abbiamo fatto, è troppo tardi per farlo però davanti c'è la vita che sia anche breve, brevissima è nella vita è nella vita che facciamo le cose è nella vita e ve ne avete fatte tante e le hai fatte tu con tuo padre e poi in realtà anche con tuo figlio a cui sei grato perché lo cipi sì certo, sì ma poi è venuto tutto bene ecco perché mio figlio era uno scappestrato tremendo ti racconto un piccolo episodio era una festa in campagna arriva un ragazzo con una bellissima automobile rossa cabriolet e mio figlio dice bella questa macchina sì ti piace, sì è sporca però ha detto la sporca eh sì purtroppo è sporca vuoi che te la lavi? davvero? disse mi la lavi sì certo dammi le chiavi ma in piscina la macchina esce dalla piscina e dice adesso è pulita faceva queste robe capisci che non era non era quello di semplice era scatenato si è messo a lavorare è cambiato è cambiato però ho conservato sto spirito per esempio quando sono arrivato in America io 40 anni fa tutti leggevano i giornali il New York Times faceva faceva proprio le tre stelle le due stelle e la prima volta che è venuto il critico del New York Times ha preso la comanda c'era mio figlio e ha detto ah guardi mi dispiace ma il cuoco il cuoco non vuol farlo da mangiare e allora se posso licenziare il cuoco perché lei non mangia lo stesso ci ha massacrato massacrato non è servito nulla cioè abbiamo adesso dicono lasciate stare Cipriani perché ne ho fatte anche di peggio di così comunque e ne ha fatte talmente tanti e così ti svelo un altro segreto Elisabetta che mi ha raccontato prima e continua a farne perché alla sua età di 91 anni ha appena preso una multa per eccesso di velocità 198 non 200 non 200 198 all'ora questo poteva essere un segreto da mantenere diciamo no sono tutti che corro in macchina se voglio dire mi diverte la velocità è una cosa che mi dà molta soddisfazione è proprio quel sogno ovvio che bisogna avere una macchina giusta soprattutto sai cosa è quello più importante i freni io ho i freni di ceramica che frenano a 250 in 100 metri lei arriva a 50 l'ora tu arrivi a 50 l'ora meno male perché frenare è la più importante che c'è da bene ovviamente parlando del business di famiglia adesso ci sono diverse famiglie coinvolte diverse generazioni coinvolte a che generazione siamo arrivati siamo arrivati noi noi ho i miei nipoti però mio figlio ha adottato anche un bambino dell'Uruguay il quale adesso ha sei anni comincia a andare a scuola e poi ho un altro nipote sono bisnonno che tre volte non mi ricordavo mai che si chiama Harry Cipriani una fantasia straordinaria mi sono veri mi pare che qualcuno vuole che faccia se non farà questa roba e magari invece vi stupirà chissà è carino però parlando di discendenti quelli che mi hanno diciamo sciavolato sono stati i figli cioè la nascita di un figlio cambia la vita completamente non si rimagina nemmeno i nipoti meno i nipoti già è il figlio che ha la responsabilità del nipote si dice che i nonni possono godersi qualche volta vedo i nonni pazzi per i nipoti io credo che devono farsi perdonare qualche cosa che non hanno dato ai figli quando li vedono i pazzi ci sta e sempre parlando della delle diverse generazioni del business di famiglia all'interno della famiglia il partecipare al gruppo cipriani è una passione o è sentito come un dovere o è mai stato sentito come un dovere tutti i doveri sono cose assieme praticamente si arrivano a certe attività cosa faccio ce lo deve fare per forza a meno che non trovi non sia uno scienziato scienziati non li abbiamo in famiglia abbiamo scienziati nel nostro nel nostro business e vedo anche i miei nipoti sono molto creativi dicono anche delle cose nuove spesso sbagliate ma quasi sempre giuste perché entra dentro nel DNA evidentemente io credo che esista questa roba qua io scrivo molto nello spirito e a proposito di questo se guardi al futuro del vostro gruppo che cosa ti immagini da qua quando compirai 110 anni per esempio potrei immaginarmi il mio funerale ma non lo farò 109 109 109 allora 109 ma il futuro se va tutto bene come va come va adesso se c'è la passione che abbiamo tutti quanti ma adesso non può andare male sarà sempre più consistente perché oggi oggi avete ristoranti che sono ancora il core business l'hotelleria sì avete aperto il members club noti che mio padre noto che mio padre aveva aperto l'hotel Cipriani nel 58 lui l'ha costruito l'hotel Cipriani e ti posso dire che per dieci anni finché l'ha tenuto lui dopo l'ha venduto era il più bel albergo del mondo parliamo del lusso un attimo però sei un po' di parque no però ti lo posso spiegare perché tu vai adesso in questi alberghi straordinari con delle stanze magnifiche eccetera e dici che bella sta stanza proprio bella poi devi andare a letto spegni la luce la stanza scompare non c'è più c'è il buio c'è il letto i letti non sono più di lusso perché c'è il duvet che o muore di caldo o muore di freddo perché se sono levi muore di freddo le lenzuola non sono di lino cioè quello è il lusso nove ore dentro nel letto mio padre aveva dei macchinari incredibili perché lavava tutto in casa tirava tutto in casa aveva dei macchinari enormi tedeschi naturalmente perché era stato in Germania ma e quello era il lusso le lenzuola croccanti dove è bello non dormire non dormire è bello non dormire perché è un piacere stare a letto e quello è il vero lusso non è la stanza bellissima perché dopo due minuti l'hai già vista e con questo in realtà vedo che il tempo vola potremmo stare qua ad ascoltarti a lungo ma arriviamo alle ultime domande di cui una è ma secondo te è una domanda che abbiamo fatto anche agli altri ospiti generazione dopo generazione cambia un po' la consapevolezza di come si è nel mondo e di come tutto sia connesso perché siamo un mondo sempre più connesso nel bene e nel male qual è la responsabilità che vi sentite a riguardo come come vivete la vostra presenza nelle comunità locali nel nel mondo proprio beh la comunità locale dico io la mia comunità locale è Venezia e io sono io sono veneziano veneziano perché non so se te l'ho detto prima ma Venezia c'è lo spirito ecco io credo molto nello spirito quando hanno fatto il palazzo locale non si sono chiesti quanto sarebbe costato gli facevano il preventivo e poi tutte le mentre nelle altre città ci sono le strade dritte quelle case dritte a Venezia hanno cominciato a costruire le strade dietro il canale e ogni casa aveva una sua storia non è che era pronta il giorno dopo ci volevano anni quello che la faceva metteva il mattone e sapeva che non l'avrebbe vista finita e lo faceva lo stesso e questo Venezia è una grandissima città perché poi c'è l'acqua l'acqua è un elemento fondamentale anche quello Arrigo ovviamente tu sei un po' cittadino del mondo no il mondo è venuto da me io non mi sento non veneziano da cui il mondo è arrivato mi spieghi cosa significa che il mondo è venuto da te è venuto da voi beh certo sì il mondo si apre la porta e abbiamo detto trovo un capote per esempio non è che io sono andato in America a trovarlo abbiamo detto trovo un capote quale quella volta mi chiede caro perché era gay e lo facevano vedere anche cioè proprio caro Cipriani devo mandare un mio manoscritto che poi deve essere stato il manoscritto di quello famoso il suo libro ultimo famoso eccetera e allora a quell'epoca non c'era DHL non c'era nulla e c'è un cliente che va in America io ce l'avevo era poi direttore del turismo di Venezia il quale quando gli ho chiesto di portare il manoscritto io queste cose non le faccio perché ho dovuto trovare un altro cliente e ecco questo da Hemingway a Truman Capote Lacan Lacan era il famoso filosofo no quello e guarda come sei gentile come sei gentile era un uomo straordinario aveva una famiglia numerosissima con tante mogli tanti figli eccetera così e loro non è che io sono andato a trovare Lacan queste cose direi che è tempo di salutarci purtroppo perché ti ascolteremmo davvero per ore e lo facciamo con l'altra domanda che poniamo a tutti i nostri ospiti ma quindi possiamo dire che Arrigo è nato con la camicia che me l'ho solo guadagnata me l'ho solo comprata guadagnata cucita no sì sì voglio dire per modo di chiaro sì questo però non è che ho avuto dei mio padre era un uomo mitissimo però io per 40 anni ho lavorato 6 giorni alla settimana non esistevano i due giorni e lui mi diceva siccome andavo a pescare il settimo giorno diceva pensi troppo alla pesca e quello non è stato così semplice una volta mi ricordo quando avevo l'hotel Cipriani l'hotel Cipriani chiudeva due mesi d'inverno e c'era direttore con lui gli ha detto scusi signor Cipriani posso fare un giorno di festa la settimana perché perché e le cose sono cambiate tu poi sono cambiate sì sono cambiate sì adesso io ho scritto che l'Italia la ricostituzione dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro no sulle ferie è una repubblica montata sui giorni di festa e sulle ferie minimale Arrigo ma questa è la ragione per cui se ti vogliamo incontrare ti troviamo ancora al lavoro certo sì al mattino però qualche volta alla sera se c'è bisogno c'è un mattino ma sì è parte della mia vita se uno smette di lavorare e muore che differenza c'è di far non esserci al lavoro non esserci nella vita stessa cosa Elisabetta mi sembra che abbiamo chiuso in bellezza questa serie sulle next generation sì davvero grazie mille Arrigo grazie e alla prossima alla prossima grazie